PING PONG BABÈ TING Annuncio pubblicitario sui prodotti di Bimbo Squalo Ti hanno scosto i dolcetti dagli squaletti? Dolcetti al cioccolato dal gusto prelibato! Lì? No, lì! Forse lì? Questo qui! Ti hanno scosto i dolcetti dagli squaletti? Muova! Dolcetti al cioccolato dal gusto prelibato! Muova! Prova, prova! Bene! Per festeggiare il primo giorno delle vacanze di Pasqua faremo una caccia al tesoro! Siete tutti pronti? Pronti? Come riusciremo a trovare i dolcetti? Ta-da! Questa mappa mostra dove sono nascosti tutti i dolcetti! Una mappa? Non assomiglia a una mappa! Ma se usi questo pennarello magico il disegno si trasformerà in una mappa colorata! Wow! È davvero magico! La punta non ha colore! Ma quando disegnate su questo foglio speciale la mappa ha iniziato a colorarsi! Iniziamo a colorare! È davvero buonissimo! Brooklyn, vuoi assaggiare? Sì, grazie! Wow! È davvero buono! Dolce e squisito! Proprio come ha detto la mamma! Tesoro, hai finito di colorare la mappa? Ecco! I dolcetti devono essere proprio lì! Dove ci sono le i? La mappa è perfetta! Ora andiamo a scovare quei dolcetti! Andiamo! Troviamoli du-du-du-du piccoli dolcenti du-du-du dolci al cioccolato du-du-du che caccia al tesoro sarà! Evviva! Ed è davvero buono! Dolcetto stellato dove sei? Guarda qui, guarda qui! Eccone uno! Evviva! Dolcetto cobaleno dove sei? Guarda qui, guarda qui! Eccone due! Evviva! Guarda quanti dolcetti ho trovato! Cosa ne pensi? Ho seguito la mappa e ho trovato Oh no, Brooklyn, stai bene? Per fortuna i miei dolcetti sono salvi Oh, i miei dolcetti! Nonno? Hai visto il mio dolcetto? È rotolato da questa parte Quindi tu sei il famoso bimbo squalo Oh nonno, hai visto il mio dolcetto? Io non sono nonno squalo Sono solo un leggendario coniglio guardiano Un guardiano? Se sei un guardiano Allora, hai visto il mio dolcetto da qualche parte? Farò a cercarlo Che ne dici di... Questi simpatici braccioli per le pinne sono tuoi? Oh wow, ho sempre voluto un paio di questi Ho sempre voluto usarli per imparare a nuotare Quando gioco in acqua insieme a mamma e papà Ma questi però non sono i miei Questo è tuo Non è mio Deve essere questo Non è mio È questo qui? Sì, è mio Ecco a te Che piccolo squaletto onesto C'è un regalo speciale visto che sei sempre sincero Un regalo speciale? Ecco qui Il sottomarino, i braccioli e tutti i giocattoli che volevi È un regalo speciale da condividere con i tuoi amici Wow! Oh! È un uovo super gigante questo Ah! Wow! È una scimola d'acqua Mmm Beh, questo lo regalo solo agli squali onesti Puoi giocarci con i tuoi amici? Wow, guardate qui gente Ecco che se ne va Guardate qui Il coniglio guardiano mi ha regalato questi giocattoli e tanti dolcetti Wow, stupendi È divertente Possiamo giocare insieme con lo scivolo Senza andare al parco acquatico Oh sì! William, hai già iniziato? Andiamo! Fate attenzione Wow! Un vecchio coniglio guardiano regala giocattoli? Coniglio guardiano! Puoi aiutarmi a trovare il mio bellissimo giocattolo? L'ho perso! Oh, ciao! Eh? Tu sei il nonno di Brooklyn! Dov'è il vecchio coniglio guardiano? Voglio dei giocattoli nuovi anche io! Ma cosa dici? Ciao! Ti è piaciuto il video? Ricordati di iscriviti al canale! Iscriviti! Cerca Pingfong su YouTube Mancani tempi E ora non ci seguite? Ciao!